L'anello è debole. L'ho pulito severamente. No, ma tu te lo stai, mi ho sperato. Avevo lo sguardo terrorizzato. Mi toccava la madre, come un bambino ha condannato. L'altra rotula che è stato, l'ha spaccato anche qui. Qualcosa di simile. Non credo che ci potrà più essere d'aiuto. Dovevi esigere la solita percentuale e basta. Avevo bisogno di fare del male a qualcuno. Parliamo di cose più importanti. I soldi. I soldi ci sta pensando Manuel. Manuel? Di solito ci pensi tu. Avevo bisogno di parlarvi. Cosa c'è di così interessante da sapere? E sei tu che avevi il sospetto di un pedinamento. Non era un sospetto. Infatti io te lo confermo. Una cimice in macchina. E un'altra in ufficio. Verrò a scoprire molto presto l'identità di loro signori che ci stanno tenendo sotto controllo. Ma visto che manca uno di noi posso intuire di chi si tratta. Ma non ce lo vedo Manuel a fare la spia dei castigatori. E invece ti sbagli. Guardate qua. Guardate qua.